Ciao Ciao Su, entra Grazie Stai benissimo Grazie, anche tu Ho prenotato per le otto Ok, sì, grande Ascolta, forse prima dovremo parlare Oh Ok Ma prima di tutto hai mai sentito parlare del gatto di Schrödinger? In verità ho sentito parlare fin troppo del gatto di Schrödinger Bene Bene, il gatto è vivo, andiamo a cena